Pareggio importantissimo per Lisernia in casa dell'ex vicecapolista Fano. Secondo 0-0 tra le due compagini dopo quello maturato all'andata proprio all'Ancellotta. Un punto che fa classifica e sicuramente aumenta la fiducia e l'autostima degli uomini di De Bellis. Dunque super positivo il risultato. Come detto Lisernia aggiunge un punto fondamentale in graduatoria. Nonostante l'ottimo torneo disputato Panico e compagni hanno solo un punto di vantaggio sulla zona play-out. Con un equilibrio incredibile con otto squadre racchiuse nel giro di quattro punti. La lotta per la salvezza è davvero serrata. In quest'ottica Lisernia si colloca al meglio scendendo in campo ogni domenica al massimo delle forze. Per portare a casa un risultato positivo. L'impegno è sempre totale e lo 0-0 di Fano premia ancora di più. Lo spirito è l'abnegazione dei bianco celesti. Da limare la questione relativa alle espulsioni e alle squalifiche. Spesso Lisernia è costretta a giocare in inferiorità numerica. Ultimo caso quello del portiere Schina. Il ragazzo Juniores ha rimediato un cartellino rosso in terra marchigiana davvero in modo ingenuo. Ecco da questo punto di vista si deve migliorare e crescere. Le gare da qui alla fine saranno giocate al massimo. Ogni match sarà un vero e proprio spareggio a partire dalla seconda trasferta consecutiva prevista domenica prossima contro la Folgore Veregra. L'incontro è il primo di un mese decisivo per Lisernia in ottica salvezza. In ordine dopo la Folgore si affronteranno Olimpia, Agnonese, Re Canatese e Amiternina. Dunque periodo assolutamente fondamentale per l'intera stagione. Nelle stesse quattro partite all'andata i Bianco Celesti hanno raccolto cinque punti. Si può e si deve fare meglio per provare a blindare la salvezza già ad inizio marzo.